La cena è pronta, nonno. Vieni. Sei una donna di casa eccezionale, Heidi. Ti ringraziamo ogni giorno, signore, per questo cibo e per la tua infinita bontà. Grazie per la vita che ci hai dato. Aiutaci ad accettarne anche le amarezze. Amen. Amen. Questo latte è la cosa più buona che ci sia al mondo, nonno. Grazie. Grazie. È stato tu a insegnare al mio babbo a fare l'intagliatore? Sì. Quando cominciò era più piccolo di te. Ed era molto bravo. Lui non perdeva il suo tempo in sciocchezze, no. E divenne un falegname abilissimo. Sarebbe diventato il più bravo di tutta la Svizzera. Scusami, nonno. Scusami, nonno. Io non volevo. Non volevo rattristarti facendoti ricordare... Che dici? Non è niente. Ora però vai a dormire. Buonanotte, nanno. Buonanotte. Grazie. Grazie. Grazie.